Grazie molto di questo invito, ma io sono diventato una persona che invade regolarmente i vostri congressi grazie alla benevolenza di Guido Alpa. Lo faccio molto volentieri e spero che nelle cose che dirò rapidamente si potrà cogliere anche un'attenzione non soltanto rituale al lavoro che fa l'Avvocatura in Italia ma non soltanto in Italia perché siamo entrati e entriamo sempre più profondamente in una dimensione nella quale proprio la tutela dei diritti fondamentali e l'affidamento alle corti in un mondo che ha visto deperire la sovranità nazionale attribuisce agli Avvocati una dimensione, un'importanza e se così posso dire una importanza sociale di politica del diritto forse senza precedenti. Il riferimento ai diritti fondamentali ha una sua ovvietà anche in un momento in cui la sensazione è che i diritti fondamentali siano sopraffatti dall'unica vera legge naturale che in questo momento percorre il mondo e cioè la legge dell'economia. Tuttavia proprio questo tentativo di ridurre il mondo a un'unica dimensione, quella del mercato e dell'economia ci parla invece della necessità e della centralità nuova che i diritti fondamentali possono assumere. La dimensione ovviamente alla quale io mi riferisco non è soltanto quella nazionale, non è soltanto quella che riguarda una grande regione del mondo unificata proprio anche attraverso una carta di diritti fondamentali cioè l'Europa 27 ma un po' il pianeta considerato nella sua globalità come Susa dice. Il primo punto riguarda la posizione della persona in questa dimensione e questa unificazione si realizza appunto intorno ai diritti fondamentali perché l'idea tradizionale di cittadinanza che è stata costruita nella modernità come strumento di esclusione. Io sono cittadino di uno Stato e questo esclude gli altri quando vengono a casa mia dalla possibilità di godere della pianezza dei diritti e viceversa nel momento in cui io mi trasferisco al di là del confine in un altro Stato non sono soltanto straniero ma sono anche qualcuno che non può godere dell'integralità dei diritti che hanno il cittadino i cittadini dello Stato medesimo. Così si costruisce nella modernità e quando parlo della modernità parlo della dissolversi del regime feudale, della creazione degli stati nazionali. E tuttavia vorrei ricordare che l'Italia ha avuto in un momento significativo della sua storia la capacità di rompere questo schema. Mi riferisco al codice del 1865 dove all'articolo 3 si scriveva lo straniero gode dei diritti civili come gli altri cittadini. Questa è per l'epoca una rivoluzione perché in quell'epoca mancando soprattutto la condizione di reciprocità ovviamente non si godeva dei diritti politici. I diritti sociali erano ancora cosa ben modesta ma i diritti civili erano negati allo straniero. L'Italia all'indomani dell'unità in un momento in cui si sarebbe potuto pensare a una sorta di fragilità, di bisogno di essere tutelati dall'esterno invece fa questa straordinaria apertura che tra molti conflitti arriva fino al 1939 quando l'entrata in vigore del primo libro del nuovo codice civile cancella questa acquisizione. Ma questa è un'anticipazione. Oggi l'idea di cittadinanza, voi lo sapete benissimo, è costruita intorno ai diritti fondamentali. Quando noi leggiamo di diritti di cittadinanza pensiamo e pratichiamo che cosa? Il fatto che ciascuno di noi, ciascuna persona ha un nucleo inscalfibile di diritti che lo accompagnano quale che sia il luogo del mondo in cui si trova. Noi sappiamo ed è un'esperienza che molti di voi hanno fatto direttamente o indirettamente che la giurisprudenza italiana ordinaria e costituzionale ha fortemente sottolineato che anche lo straniero immigrato illegale continua tuttavia a godere di una serie di diritti che gli appartengono in quanto persona. Ecco la dimensione dei diritti fondamentali che per un certo verso è separata dalla cittadinanza nel senso storico ed escludente. Se io possessi azzardare qui una indicazione, quella che nel testo fondativo della modernità giuridica che come sapete è per l'Europa la dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789, quella dichiarazione conosce non un antagonismo ma una distinzione tra uomo e cittadino. La nuova idea di cittadinanza intorno ai diritti fondamentali per così dire ricompone nella persona l'unità, non c'è più l'esclusione. L'uomo e il cittadino si compenetrano e la persona con il suo patrimonio di diritti nel mondo è nello stesso tempo cittadino del mondo e persona riconosciuta in quanto tale. Naturalmente questo porta la necessità di una riflessione più accurata, più rigorosa proprio intorno a che cosa noi possiamo considerare diritto fondamentale. E qui naturalmente entra in gioco il costituzionalismo del Novecento e quel tanto di costituzionalismo del Novecento che si è trasferito nella dimensione del terzo millennio. Noi abbiamo una serie di principi che sono quelli storici e tutti noi li possiamo declinare secondo lo schema tradizionale la libertà, l'eguaglianza, la fraternità o la solidarietà. Ma noi abbiamo avuto nel dopoguerra ultimo, tra il 48 e il 49, una innovazione a livello costituzionale che è stata rappresentata in modo significativo da come sono state scritte le costituzioni badate. è uno dei tanti accidenti della storia dei due paesi che avevano perduto la guerra. Cioè l'innovazione costituzionale del dopoguerra arriva dalla Germania e dall'Italia. Anche la Francia scrive una nuova costituzione nel 48, ma è una costituzione che riprende i moduli storici della sua tradizione ed è giusto che sia così perché se voi ancora oggi leggete molte delle decisioni del Consiglio Costituzionale, la loro Corte Costituzionale, trovate le loro brevi decisioni e credo che voi apprezzereste molto se i giudici italiani fossero più sintetici nelle loro motivazioni, nelle loro sintetiche motivazioni, delle volte si fa riferimento a uno degli articoli della dichiarazione dei diritti dell'89. Lo dico non con spirito polemico, ma invitando a una riflessione. I testi costituzionali non vivono soltanto attraverso il tempo e la loro permanenza non si misura con gli anni. due secoli e passa dalla Francia, due secoli e passa dagli Stati Uniti, non rottamiamo le Costituzioni perché hanno superato una certa età. La Costituzione italiana e quella tedesca innovano, mantengono lo schema classico, tutti nascono liberi ed eguali, ma la Costituzione tedesca per ragioni storiche che voi comprendete bene e la Costituzione decide di aprire con il riferimento alla dignità, la dignità umana è inviolabile. La Costituzione italiana decide di aprire con una innovazione rappresentata dall'affermazione che conoscete, l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro e i problemi della democrazia nel momento in cui il lavoro diventa difficile e precario, li stiamo vivendo nella fase che ci accompagna e quindi in qualche modo l'intuizione dei Costituenti penso che ci invita a una riflessione. Dunque un quadro che da una parte riprende i principi fondativi della modernità democratica, eguaglianza, libertà, solidarietà, ma adesso si accompagna soprattutto il punto della dignità. Il punto della dignità è fondamentale, mi limito a segnalarlo rapidamente perché come voi sapete nella giurisprudenza della Corte di Giustizia delle comunità dell'Unione Europea il criterio di dignità è diventato uno strumento per valutare la legittimità della stessa attività economica. Ci sono state, adesso ne cito, due sentenze, una riguardante un caso tedesco, il caso Omega, che è una riguardante un caso, quello delle brevettabilità delle cellule staminali, che hanno attinto come fonte della decisione al principio di dignità e nell'uno e nell'altro caso hanno ritenuto che l'attività economica non potesse essere in conflitto con il principio di dignità. Lo dico perché è evidente che in questa fase la dignità non è più soltanto una clausola di stile, una clausola un po' retorica, un qualcosa di cui il contenuto è difficile da definire. Appartiene ormai allo strumentario grazie al quale si risolvono controversie del più alto livello e che riguardano l'attività economica. La legittimità dell'attività economica deve essere misurata anche attraverso il principio di dignità. E anche qui io credo noi dobbiamo essere in qualche modo consapevoli anche della capacità di antivedere della nostra Costituzione, perché nell'articolo 41 voi sapete benissimo che si dice che l'iniziativa economica privata è libera, ma si aggiunge che non può svolgersi in contrasto con la sicurezza, la libertà, la dignità umana. Una primogenitura costituzionale italiana sul terreno più delicato che è stato elaborato attraverso il lavoro congiunto di coloro i quali ponevano alla Corte di Giustizia il problema e le bellissime requisitorie degli Avvocati Generali in questi due grandi casi richiama l'intuizione dell'epoca che congiunge queste due Costituzioni, quella tedesca e quella italiana, intorno al tema della dignità che è stato poi rafforzato perché voi sapete che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea si apre riprendendo proprio il modulo narrativo della Costituzione tedesca la dignità umana è inviolabile ed essere rispettata e tutelata. Non è solo una dichiarazione di principi ma, insisto, una indicazione operativa. E perché faccio questo riferimento? Perché in questo momento ho fatto non a caso una citazione di una Corte sovranazionale perché nel momento in cui la sovranità nazionale tradizionale è in crisi, lo sappiamo, non è che siano scomparsi gli Stati nazionali ma quando noi ci troviamo a dover fronteggiare un problema che voi maneggiate certamente molto più di me ma di cui io ho avuto esperienza diretta, ci troviamo a maneggiare una serie di affari, ci rendiamo conto che le frontiere nazionali non servono più, non reggono. Io mi sono trovato in esperienze precedenti quando presiedevo il garante italiano e ancora di più quello europeo ad avere a che fare con un gruppo, uno dei padroni del mondo, Google, che di fronte ad alcune richieste diceva ma i miei server sono negli Stati Uniti, le nostre rappresentanze in Europa sono poco più che collettori di pubblicità e quindi voi non avete alcuna giurisdizione su ciò che noi facciamo. Faticosamente attraverso il dialogo delle corti, quella che è stata chiamata la comunità globale delle corti, queste difficoltà non dico che sono superate ma possono essere affrontate in modo da non lasciare privi di tutela i soggetti che altrimenti non avrebbero la possibilità di avere garanzie. E quali sono allora i soggetti di questa rinnovata stagione molto problematica, molto difficile ma ineludibile dei diritti fondamentali? Perché la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, sapete bene, che dal 2009, cioè dal momento in cui entra in vigore il Trattato di Lisbona, ha, cito testualmente, lo stesso valore giuridico dei trattati e ormai sono frequenti nelle giurisdizioni europee di tutti e 27 Paesi, nelle giurisdizioni ordinarie, costituzionali e sovranazionali, sono sempre più frequenti le decisioni che hanno la loro base giuridica esattamente nella Carta dei diritti fondamentali. Dunque, noi ci troviamo di fronte alla proiezione dei diritti fondamentali nella dimensione della tutela giuridizionale. Nella tutela giuridizionale che poi ha trovato delle sue nuove connotazioni, soprattutto nella materia penale. Voi sapete che la possibilità di reagire a quelli che sono stati chiamati crimini contro l'umanità, che hanno portato poi a uno statuto di una Corte internazionale, è tuttavia trovato altre manifestazioni molto significative e importanti nei tentativi di costruire per questi reati una competenza generale, nel senso che di fronte a questi reati qualsiasi Paese sarebbe legittimato ad agire nei confronti dei responsabili di questi crimini che si trovino sul loro territorio. Tentativi che non sono sempre andate a buon fine. Penso in particolare a quello che è avvenuto in Belgio, ma ci sono state iniziative di parecchi magistrati, ne ricordo uno soltanto, che ha avuto poi vicende personali molto controversie, il giudice Garzon, in Spagna, che ha portato all'incriminazione di responsabili di gravi violazioni della legalità, come per esempio il generale Pinochet. Perché dico questo? Perché evidentemente il circuito giudiziario richiede di essere attivato e i soggetti che possono attivarlo sono evidentemente le persone che si ritengono lese nei loro diritti fondamentali, ma attraverso queste persone interviene la capacità costruttiva degli avvocati. L'Italia in questi ultimi tempi per esempio ha visto una legge molto controversa che è la legge 40 sull'accesso alle tecniche di procreazione assistita, che io qui non voglio discutere nel merito, ma mi limito a rilevare che questa legge è stata progressivamente smontata in ragione della necessità di tutelare diritti fondamentali dalle corti ordinarie italiane, dalla corte costituzionale e ultima dalla corte europea dei diritti dell'uomo. E io conosco fisicamente gli avvocati che hanno intrapreso questo tipo di lavoro e senza la loro convinzione, senza, posso dire, il loro entusiasmo, la loro capacità di comprendere fino in fondo le ragioni dei loro clienti e tradurle poi in una dimensione tecnica molto ardua, perché tradurre i diritti fondamentali, soprattutto quelli di ultima generazione, in formulazioni tecniche adeguate e rispetto alle quali i giudici chiamati a decidere non possano sfuggire, è impresa molto difficile. Ed ecco perché io sono qui, non per captare la benevolenza della platea degli avvocati, non faccio questo mestiere, non l'ho fatto perché ho fatto quando ero molto giovane qualche cosa e mi sono convinto che era una cosa così appassionante che essendo io poi tendenzialmente incline ad entusiasmarmi delle cose che faccio, avrei alla fine abbandonato la mia attività di ricerca. Quindi è stata una scelta non determinata da un rifiuto sdegnoso, ma proprio dalla consapevolezza di quanto mi avrebbe coinvolto. Bene, questo è ciò che sta accadendo. I protagonisti di grandi vicende planetarie in questo momento sono in parte e non sempre dalla parte giusta i grandi studi internazionali. Quelli che è un libro non tanto bello, ma con un titolo molto efficace che è stato tradotto in italiano, sono stati chiamati i mercanti del diritto. Ma in realtà da una platea minuta, infinita, di persone che accompagnano l'azione di tutela dei diritti attraverso la loro esperienza professionale. Persino in Cina, io non so se qualcuno di voi ha visto anni fa un film cinese, La storia di Juju, che era un bellissimo film, che poi il titolo originale era Juju va in tribunale. Questa è la storia di una contadina che vede sacrificati i diritti del marito e decide di non accettare la giustizia in parte tribale e in parte politica del suo villaggio e decide di andare in tribunale. Trova un avvocato e rompe quindi lo schema patriarcale e autoritario di quella società intorno proprio alla tutela di un diritto. Negli ultimi giorni in Spagna sta avvenendo di fronte al dramma, io sono stato a Madrid pochi giorni fa e che cosa sta avvenendo? Di fronte al dramma della perdita della casa una schiera molto fitta di avvocati delle provenienze più diverse dal punto di vista non mi piace rispetto a una professione parlare di divisioni politiche ma certamente di avvocati che operano in luoghi piccoli o in grandi città organizzati in grandi studi oppure davvero dei freelance che stanno facendo hanno messo sotto osservazione tutte le clausole dei contratti di mutuo per vedere se all'interno non compaiano clausole che possano essere considerate vessatorie non in base ai vecchi criteri civilistici ma misurati attraverso i diritti fondamentali delle persone in primo luogo il diritto all'abitazione e sarà il tribunale costituzionale spagnolo investito di questa partita dalla quale la politica non riesce a venire fuori e il canale giudiziario attenzione non è un canale di supplenza è un canale istituzionale di fronte a queste situazioni ecco perché io parlavo io vengo informato da Guido Alpa di quello che accade che io penso francamente e di nuovo non voglio guadagnarmi una vostra facile benevolenza che una professione che si trova in questo momento su una frontiera nuova che è quella di quali sono gli equilibri tra i poteri perché il problema della crescita dell'importanza della risoluzione giuridizionale dei conflitti ovviamente impone una riflessione su quelli che sono gli equilibri tra i poteri e porta con sé le responsabilità della categoria professionale che non è soltanto quella dei giudici ma il rapporto con il cittadino è attraverso quel mediatore indispensabile che è l'avvocato e proprio questa funzione che io vedo essenziale nel quadro dei diritti fondamentali mi pare che meriti un'attenzione legislativa e non semplicemente quella della decretazione io lo dico perché chi mi conosce un po' sa che io ho attraversato il Parlamento per un pezzo della mia vita e sono stato un inflessibile per quanto minoritario oppositore della via alla riforma attraverso la decretazione se noi vogliamo difendere la dignità del Parlamento non della dignità soltanto dei soggetti che sono oggetto della legislazione dobbiamo dire che le grandi scelte si fanno in Parlamento questo è un punto a mio giudizio importante posso usare per le sorti della democrazia di un Paese se noi progressivamente svuotiamo il Parlamento ed è quello che noi abbiamo davanti agli occhi diventa anche poco significativo chi va a rappresentarci e la classe politica finisce con l'essere sminuita di significato perché è privata delle sue funzioni essenziali mi vorrete scusare di questa digressione perché voglio dire due cose finali che dimostrano la centralità del Parlamento vecchia formula ma dei diritti fondamentali voi sapete che una delle parole d'ordine che attraversa in questo momento l'Italia anche con toni retorici ma il mondo perché si è aperta a questa questione è quella della tutela dei beni comuni si discute intorno all'acqua si discute intorno all'aria la tutela dell'ambiente la conoscenza in rete questi sono i grandi temi che sono posti all'attenzione dell'opinione pubblica planetaria dalla questione di questi beni che non a caso vengono definiti beni pubblici globali o planetary commons proprietà comuni planetarie perché è importante questa discussione? è importante per la retorica politica certamente la retorica politica nel senso buono del termine nel senso cioè di una costruzione di un'agenda politica nella quale compaiono non soltanto gli interessi di piccoli gruppi o di singole persone ma compaiono le grandi questioni d'epoca e quindi è giusto che di questo si discuta però compito del giurista nelle sue varie declinazioni il professore, l'avvocato, l'amministratore è quello di tradurre nella dimensione giuridica poi questa retorica politica o queste domande sociali di tutela e in questo caso se noi vogliamo non distendere la categoria dei beni comuni fino a ampiezze che la renderebbero priva di significato e non tutelabile io ho letto un titolo l'anno scorso sul Corriere della Sera che diceva i poeti sono un bene comune io sono un grande lettore di poesia però questa cosa che mi piace molto come formula retorica poi faticherei a tradurla in una tutela della poesia come bene comune e allora è una mia ipotesi che so che non è condivisa da molti che discutono di questo e tuttavia credo che noi dobbiamo essere capaci di selezionare se tutto è bene comune nulla è bene comune e quindi non è possibile assisterli con adeguata tutela i beni comuni in realtà da quella rapida discussione che io rapida elencazione che ho fatto sono direttamente collegati se sono beni comuni planetari sono legati anche a diritti fondativi della persona e cioè ci sono aspetti della nostra vita che sono quelli fondativi che devono poi essere resi effettivi attraverso la possibilità di accedere ai beni necessari per la loro soddisfazione e voi vedete i collegamenti il collegamento dell'acqua con i beni con i diritti fondamentali e il collegamento con un bene essenziale della vita la stessa sopravvivenza se voi guardate al tema dell'ambiente direi che però va scomposto trovate indicazioni nello stesso senso se voi pensate alla conoscenza in rete e alla sua accessibilità vi rendete conto che ci troviamo di fronte al diritto di costruire liberamente la nostra personalità quello che troviamo scritto nei primi articoli della Costituzione attraverso la possibilità di acquisire le conoscenze necessarie conoscere per deliberare diceva Luigi Einaudi conoscere per decidere conoscere per formarsi per partecipare possiamo aggiungere in questo momento e dunque io se voglio sinteticamente individuare una formula io direi che i beni comuni non sono dei beni che sono comuni per natura la conoscenza in rete non è un dato naturale è qualcosa che ognuno di noi costruisce attraverso il suo contributo l'uso che fa di internet e allora il bene comune è qualcosa che è costruito dai diritti fondamentali quando noi instauriamo una relazione da un diritto fondamentale è un bene che diventa che diventa uno strumento indispensabile per la tutela e la garanzia di quei diritti noi costruiamo il bene comune non in base a una sua natura ma in base alle esigenze della persona e quindi questo è il criterio selettivo solo quando noi possiamo identificare un diritto fondamentale nel senso pieno del termine possiamo chiederci se c'è un bene che deve essere qualificato come comune questo non vuol dire che tutti i beni poi come qualcuno con una certa frettolosità sta facendo in Italia che abbiano una rilevanza pubblica debbano essere attirati nella categoria dei beni comuni ho presieduto scusate l'autocitazione ma faccio riferimento a un documento accessibile ho presieduto una commissione ministeriale i cui risultati sono stati fatti propri per iniziative legislative regionali per iniziative legislative parlamentari di riforma del terzo libro del codice civile che propone una nuova tassonomia cioè una nuova distinzione tra i beni che risce i beni comuni ma nello stesso tempo ripropone perché il lavoro della commissione riguardava la riforma del codice civile libro terzo nella parte della proprietà pubblica rimodula poi la proprietà pubblica in relazione alle finalità che possono essere raggiunte e i beni comuni sono quelli che debbono soddisfare le esigenze e i diritti di cui io ho parlato precedentemente concludo con due riferimenti ma questa categoria dei beni comuni e questi discorsi sui diritti fondamentali sono sufficientemente fondati nel testo costituzionale oppure noi abbiamo bisogno di modificarlo perché io prima invitavo a non rottamare frettolosamente un testo che nella parte dei diritti fondamentali costituisce ancora un grande monumento se posso usare questa parola di sapienza giuridica e vi inviterei senza polemica a leggere in parallelo gli articoli della costituzione del 48 nella loro chiarezza nella loro immediata comprensibilità e le sciagurate modifiche sciagurate non per il merito ma per il linguaggio l'articolo gli articoli riguardanti anche il giusto processo il nuovo articolo 81 sono scritti con una sciatteria che non sarebbe tollerabile neppure nell'ultima delle leggi ordinarie quindi quando io dico quando sento dire modifichiamo la costituzione a parte altre considerazioni mi domando sempre ma abbiamo la cultura adeguata per intraprendere un'operazione di questo genere questo è un punto importante perché io credo io credo e sono qui per questa ragione che tutti coloro i quali svolgono attività giuridica sono sulla stessa barca in un momento difficile in un momento di regressione culturale che rende più difficile il vostro lavoro lo dico con grande sincerità aggiungo una cosa e concludo ma questi beni comuni per dare un piccolo esempio di lavoro esegetico possibile come fanno a entrare nel quadro costituzionale se l'articolo 42 dice che la proprietà è pubblica o privata ma se noi abbiamo quella capacità di lettura non creativa ma sistematica di un testo dall'articolo 42 passiamo all'articolo 43 che era un articolo che sembrava ormai appartenere al passato perché ci dice che della possibilità che sia affidata a comunità di lavoratori e di utenti la gestione di servizi pubblici essenziali oppure di situazioni di monopolio ecco qui compare un'altra forma proprietaria la proprietà di comunità di lavoratori o di utenti esattamente quello che ci porta a identificare attraverso queste comunità di lavoratori e di utenti diritti fondamentali e ci indica anche la via della gestione che non è sempre identica perché se come sta accadendo dopo il referendum dell'anno scorso sull'acqua vengono costituite aziende speciali che consentono una gestione in loco con partecipazione dei cittadini la gestione della conoscenza in rete non può essere affidata agli stessi criteri perché come fate a estrarre un gruppo di gestori dai più di 2 miliardi di soggetti che si servono di internet allora il modo in cui viene costruito giuridicamente l'accesso a internet che ne individua anche le modalità di gestione detto questo il discorso potrebbe seguire molte altre strade ne indico una soltanto che è quella nelle apparenze più lontana avveniristica fantascientifica è quella la modifica del corpo delle persone ormai la tecnologia è un supporto molto forte può cambiare il corpo io che sbadatamente sono caduto per le scale mi sono fratturato il malleolo ho qui sotto una piastrina di titanio non sono diventato un uomo bionico non sono ancora un ibrido però questo destino delle persone attraverso la possibilità di riparare o addirittura di rafforzare le prestazioni del corpo non solo di riguadagnare salute ma di migliorare le prestazioni del corpo è uno dei grandi temi rispetto al quale io voglio fare un solo esempio e su questo chiudere qualche tempo fa è stato pubblicata dalla rivista Nature una ricerca di un biologo che partendo da un lavoro sulla memoria dei topi ha individuato alcuni protocolli alcune modalità di intervento che possono portare a un grande potenziamento dell'intelligenza individuale a parte la discussione sugli aspetti scientifici immediatamente la più grande organizzazione inglese dei diritti civili che è Human Rights Watch l'osservatorio dei diritti umani ha posto un problema dicendo non vogliamo discutere la legittimità o meno di questo tipo di sperimentazione delle sue possibili traduzioni in applicazione concreta ma vogliamo porre un problema chi potrà accedere a questo potenziamento tutti soltanto coloro i quali dispongono delle risorse necessarie e non lancerà a questo punto una società castale nella quale le persone saranno tanto più importanti quanta più intelligenza potranno comprare sul mercato ecco una nuova versione del principio di eguaglianza che come la dignità rispetto all'iniziativa economica privata l'eguaglianza diventa il criterio di legittimazione del ricorso alla tecnologia tutto questo può essere riferito anche a un mondo che voi conoscete che io ho praticato molto quello delle reti e della digitalizzazione del mondo ma io vorrei concludere dicendo che i diritti fondamentali sono oggi il passaggio obbligato si distendono sul mondo evocano la garanzia delle corti implicano la sapienza giuridica degli studiosi che devono rendersi conto di questa dimensione ma degli operatori sul campo mancando i quali nessuna controversia può essere gestita adeguatamente e tutto questo non ci rinvia soltanto alla necessità di creare nuovi diritti che qui non mi metto neanche a elencare ma ci riporta a una continuità che noi giuristi dovremmo custodire quella dei grandi principi fondativi li ho nominati eguaglianza libertà solidarietà innervati e rafforzati da quella rivoluzione della dignità che è stata a mio giudizio il grande risultato del costituzionalismo dell'ultima fase del secolo passato e che si manifesta in questo momento come uno dei riferimenti essenziali per il nostro lavoro l'onorevole siliquini grazie 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 al congresso al trentunesimo congresso dell'avvocatura scusate la voce che come sentite è problematica grazie di consentirmi brevemente di fare quello che ritengo più essenziale una breve testimonianza di fatti che essendo stati da me personalmente vissuti ma soprattutto la cosa più importante e voi capite cosa voglio dire sono scritti negli atti e quando sono scritti negli atti nei verbali nei provvedimenti nei regolamenti o nelle leggi sono fatti e non sono più impostazioni personali e consentitemi una premessa che nasce semplicemente anche qui da una testimonianza io come voi sapete sono prima di tutto un avvocato e poi anche un parlamentare e come avvocato ho giurato avanti al tribunale di Torino in una data che preferisco non ricordare in questo momento ma tanti colleghi lo sanno bene quando sono entrata in Parlamento uno di voi due presidenti e non dirò quale dei due mi disse purtroppo purtroppo molti avvocati quando entrano in Parlamento dimenticano di essere avvocati e ne combinano di tutti i colori questo era il succo del discorso e mi venne detto a me giovane giovane parlamentare bene io vi voglio dire con con il cuore perché non dovendo più fare non essendo gli inizi di carriera ecco questo è il concetto non devo quindi guadagnare punti e posso parlare per quello che ho voluto essere e fare io invece sono ho lavorato semplicemente nelle commissioni in aula al senato e la camera volendo orgogliosamente portare avanti i concetti fondamentali che sono il cardine dell'avvocatura che sono la stella polare dell'avvocatura e cioè l'autonomia l'indipendenza e nel contempo anche rappresentare quelli che sono nella formazione delle leggi quei diritti dell'avvocatura che spesso appunto vengono o dimenticati o calpestati e oggi qui voi dovete con le vostre decisioni congressuali se posso permettermi di dare un consiglio da da tifosa dovete mettere voi stessi nelle condizioni di mantenere questa linea di dettare cioè quelle condizioni che fanno sì che non vengano più portati avanti dei tentativi a volte anche grossolani anche posquallidi sicuramente molto economici sicuramente molto costruiti a tavolino per eliminare i leader ridurre depotenziare tutte le professioni intellettuali ma principalmente perché sono tutte sotto attacco tutte ma principalmente quella che è la professione principe e c'è l'avvocatura e questo però lo potete fare solo voi e l'ho detto sempre ai nostri presidenti al professor Alpa al presidente Tilla ai presidenti delle varie associazioni voi lo dovete fare con un'attività costante purtroppo pesante purtroppo anche spesso ostacolata però lo potete fare solo voi fatta questa premessa vorrei darvi una breve testimonianza di una situazione che di fatto che molti di voi conoscono i presidenti conoscono ma non a volte tutta la base e vi dirò quindi solo i titoli ovviamente perché altrimenti lo sviluppo di questo comporterebbe qualche giornata che potrete trovare però tutti sugli atti che vi indico dal 2008 al 2010 così in una parola parlo di due anni abbiamo lavorato insieme in commissione giustizia e la camera per fare la riforma delle professioni abbiamo lavorato con tutti i presidenti abbiamo fatto le audizioni abbiamo ascoltato tutti eravamo arrivati a un testo base unitario sul quale si era raggiunta una condivisione in cui c'erano rappresentati tutti i gruppi e quindi era una questione assolutamente trasversale frutto di questo lavoro eravamo arrivati credo indirittura d'arrivo ormai il testo base esiste lo trovate allegato ai verbali del 2010 purtroppo poi le vicende e politiche ed economiche e internazionali ci fanno arrivare di un balzo praticamente al 2012 questa è la verità il 2012 io l'ho definito l'anno orribilis per le professioni intellettuali è stato un anno orribile in cui e questo ve lo assicuro in cui noi quelli di noi e non sono pochissimi che si sono impegnati per mantenere la barra diritta per mantenere la rotta della riforma sì modifica sì aggiornamento sì ma riduzione eliminazione no delle professioni intellettuali e in primis dell'avvocatura hanno dovuto faticare di giorno di notte i vostri presidenti come noi in continuazione perché mi chiederete perché non è una questione politica non è una questione di destra o sinistra non è una questione di maggioranza opposizione vi assicuro è una questione relativa al fatto che dal gennaio 2012 con decreti legge che abbiamo cercato e spesso sono riuscita a modificare in Parlamento si è attentato quasi tutti i mesi all'autonomia indipendenza esercizio delle professioni intellettuali questa è la storia del 2012 in cui non c'entrano le singole forze politiche perché il governo bene o male è sostenuto da questa strana e ampia maggioranza ciò nonostante questa maggioranza ha lavorato per dare comunque delle risposte di natura economica che ci sono state richieste dal capo dello Stato e quindi lasciamo perdere le valutazioni ma nell'ambito di quella che è stata una decretazione continua soprattutto in materia economica industriale sociale e quant'altro ogni tanto da destra o da sinistra non politica ma nel senso che era in una commissione o nell'altra all'inizio in certe commissioni qual è la giustizia poi quando hanno capito che in commissione giustizia non passava più niente in ordine a certi emendamenti allora hanno cominciato a lavorare nella commissione industria questa è l'attività che è stata fatta da gennaio 2012 e purtroppo lo dico con grande rammarico perché è ingiusto perché è stato un lavoro sbagliato perché lo contesto perché lo ostacolato e mi auguro che passino ancora poche settimane pochissimo perché si chiuda questa parentesi in modo che non possono più essere inseriti emendamenti trappola in una legge che non c'entra nulla o nell'altra che c'entra ancora meno che sia sviluppo che sia crescita che sia quant'altro che sempre vanno a toccare le professioni questo è un modo di operare che personalmente ma credo tutti voi contestiamo tutti completamente le riforme vengono devono venire le forme devono essere fatte con i professionisti ma questo non è un modo di riformare ovviamente è stato un modo di attentare alla vita delle professioni intellettuali e allora dal 2012 è cambiato tutto nel senso che da gennaio è uscito il decreto cosiddetto liberalizzazioni e non mi soffermo perché la parola stessa liberalizzazioni rende assolutamente sbagliato il provvedimento sulle professioni noi qui voi avvocati noi avvocati abbiamo un problema è stato ricordato benissimo stamattina di numeri abbiamo un problema di eccesso abbiamo un problema di super plus di abbondanza non abbiamo certo un problema di liberalizzazione della professione forense che invece avrebbe bisogno di un inquadramento di partenza nelle griglie di partenza già dall'università completamente diverso personalmente sono stata cinque anni nel ministero dell'università abbiamo lavorato intensamente con il professor Alpa e io avevo due obiettivi uno l'ho realizzato e uno no ed è quello che voi avete oggi sul tavolo quindi parliamo della realtà quello che ho realizzato personalmente e ne sono molto orgogliosa è la modifica del percorso di giurisprudenza che sciaguratamente negli anni passati come tutti gli altri corsi universitari era stato portato al 3 più 2 che si è dimostrato fallimentare in Italia che non è servito a nessuno né al Politecnico né a giurisprudenza è stata una legge sciagurata completamente sciagurata abbiamo cercato di modificarla per tutti i corsi universitari e qui abbiamo un presidente che di università ne capisce bene ma sono riuscita a farla anche se avevo la delega su questo solo per giurisprudenza ma almeno per giurisprudenza siamo riusciti allora a portare per magistrati avvocati e alta dirigenza quindi i cosiddetti giuristi anche in Europa il corso o triennale per chi vuole fare un'attività dipendente o quinquennale unico per chi vuole ovviamente fare l'avvocatura la magistratura e questo è stato un fatto con molta fatica e il secondo passaggio però questo almeno è entrato nel corpo delle leggi il secondo passaggio era quello che oggi è ancora il problema ed è il fatto che se non si fa una programmazione dei numeri all'ingresso all'università non riusciremo mai ad affrontare questo problema di un eccesso di avvocati in Italia ce n'è tre volte quanto ce n'è credo in Germania in Francia e onestamente avendo figli conoscendo il mondo dei giovani per mia fortuna chi ha figli conosce la vita dei giovani sa che c'è una massa di giovani avvocati o appena avvocati under 40 intendiamoci che fanno fatica a raggiungere le famose mille euro netti al mese non tutti ci arrivano e allora voi dovete pretendere che vi facciano questa riforma in maniera intelligente e scusate ma in un anno il ministro questo con tutti i poteri che gli danno i numeri della maggioranza strana non l'ha fatto e questa è una lacuna grave che c'è stata una lacuna grave perché ritorniamo a rimanere con una massa di giovani che stanno dando gli orali in questi giorni andato gli iscritti l'anno scorso usciranno decimati perché ovviamente qual è stato l'ordine comprensibile ma ingiusto dovete bocciarne il più possibile e lo sappiamo perfettamente la circolare del ministero che è arrivata capisco la necessità ma è ingiusto perché non possiamo far pagare ai giovani che hanno alle spalle 4, 5, 7 anni di studio 8 anni di studio una questione che riguarda la società italiana e la mancanza di modifica però devo anche dire con molta onestà perché sono abituata a dire le cose come sono che quando ho cercato di farlo ho avuto il muro da parte delle università all'epoca e il professor Alpa lo sa perché i rettori universitari vanno avanti con dei numeri i numeri sono anche denari e quindi è una questione economica e io da parte dei rettori dell'università ho avuto il muro e non mi hanno lasciato fare il numero regolamentato degli ingressi nell'avvocatura e le realtà sono queste e vanno dette quindi questi due punti sono ancora punti uno concluso anzi adesso speriamo di riuscire a migliorare ancora il corso di giurisprudenza con le proposte che sono state illustrate stamattina l'altro bisogna farlo in fretta qualcuno lo dovrà fare questo ministro non mi sembra che lo faccia mi auguro c'è ancora tre settimane speriamo invitiamolo a farlo ma ho qualche dubbio poi avremo un periodo di campagna elettorale viva Dio chissà cosa succederà poi nessuno sa che cosa succederà da qui a febbraio marzo aprile e quindi noi ci ritroveremo nel 2013 con questo problema che sarà ancora in piedi e sarà ai vostri presidenti sollecitare chi avrà la responsabilità a fare questa cosa che grida vendetta veramente di questi numeri che portano alla fame tutti i giovani che vanno a provare a tentare l'esame d'avvocatura velocemente a luglio ho avuto l'incarico come relatore di fare il regolamento delle professioni sul decreto severino che dava attuazione siamo riusciti a smuovere su alcuni punti io vi invito solo a leggere non vi do certo gli elementi io ho dato il mio parere del relatore sottoscritto il data 26 luglio l'ho trovato ovviamente negli atti parlamentari e il mio parere riporta ovviamente che il parere favorevole a quel decreto era favorevole a condizione che il provvedimento sia modificato secondo quanto ho indicato nella mia relazione e che è stato ovviamente frutto del confronto con i presidenti delle professioni in primis l'avvocatura su tre punti vi cito i titoli la formazione che deve essere fatta con gli avvocati con i professionisti e non esclusivamente nelle università perché è una vergogna questo tentativo di portarla solo esclusivamente all'università ci siamo trovati ad agosto con tutti i professionisti che dovevano fare la polizza assicurativa che è assolutamente giusta e obbligatoria ma era prevista in carico al singolo professionisti e io nel mio parere ho scritto una roba che mi sembra appena di buon senso che le polizza assicurative le possono fare i consigli degli ordini per i loro iscritti che mi sembrava il minimo perché ovviamente le assicurazioni infliggevano delle condizioni capestro e ad agosto tutti i professionisti correvano per cercare di capire sotto il giugolo dell'assicurazione e poi lasciamo perdere tanti altri punti ma ad esempio il consiglio di disciplina consiglio di disciplina che era un obbrobrio che era previsto che fosse a carico dei soggetti primi tra i non eletti vi lascio i commenti a voi i primi dei non eletti che diventano membri del consiglio di disciplina vendetta da domani vendetta assoluta vendetta e poi sempre la funzione di disciplinare agli ordini ai consigli viciniori lasciamo perdere ho fatto togliere alcuni brobri ho grazie alla collaborazione dei presidenti introdotto principi seri e condivisi e anche lì abbiamo dato una raddrizzata quindi voglio dire l'anno sorribile nasce perché abbiamo proceduto solo mediante non tentativi riusciti di raddrizzare una barca che tutti i momenti rischiava di scuffiare in parola valpola siamo a Bari capiamo cosa vuol dire una barca che rischiava di scuffiare vado sempre solo per titoli siamo stati impegnati nella soppressione dei tribunali una materia che voi conoscete bene la geografia giudiziaria bene sappiate che su questo oltre ai ricorsi pendenti di cui ci hanno parlato stamattina pende la mia mozione in Parlamento sarà discussa spero adesso alla fine di novembre non è unica perché poi ne sono seguite delle altre è una mozione che spiega semplicemente come questo provvedimento sia semplicemente incostituzionale per eccesso di deleghe ed altro e poi soprattutto c'è una cosa grave presidente cioè che questo provvedimento va a togliere eliminare i tribunali nel momento in cui entro il 31 dicembre saranno modificate le piante organiche quindi se io ho scritto la mozione che sui tribunali che sono subiudice per i ricorsi e su Parlamento per le mozioni ci deve essere una stop sulla modifica delle piante organiche perché altrimenti avremo la modifica delle piante organiche in ordine a quei tribunali che sono in teoria già soppressi ma in realtà saranno cambiate le cose perché la corte costituzionale deve intervenire e le mozioni in Parlamento devono decidere e quindi questa è un'altra cosa che vi ho voluto scopiegare concludendo abbiamo fatto ancora la riforma forense almeno su certi punti importante per la mia parte io ho insistito sull'articolo 2 cioè le funzioni dell'avvocatura scritte per legge e mi sembra che sia una cosa importante ho previsto e voluto e ho lavorato con i colleghi tutti perché poi alla fine è stato un lavoro trasversale unitario ci siamo ammazzati in commissione di giorno e di notte ma siamo usciti col testo della commissione e questo è stato il bello di questo lavoro poi tutto è perfettibile io non entro nel merito però il principio ad esempio che la società tra professionisti deve essere fatta senza il capitale e solo tra avvocati credo che sia la vostra vittoria la nostra vittoria e di questo vi invito a riflettere perché una previsione così secondo me è difficile che si ripeta in futuro poi le decisioni congressuali per fortuna non mi riguardano ma voglio dire attenzione che abbiamo fatto veramente l'ira di Dio per ottenere questo e quindi attenzione ed ultimo ancora le società di capitale la consulenza legale i miei maestri quando io sono entrata a far pratica a Torino maestri nomi famosi mi spiegavano come era doveroso allora si immagina nessuno voleva saperne che la consulenza legale spettasse all'avvocatura bene con tanta fatica la commissione nel suo insieme è riuscita a mettere questa norma nella legge e quindi rassegno a voi le valutazioni su questo siamo quindi arrivati alla fine del questo 2012 con un ultimo tentativo dell'altro giorno abbiamo lavorato insieme anche questa settimana perché improvvisamente sempre nella commissione industria questa volta del senato io personalmente non seguo solo la camera seguo sia la camera sia il senato tutti i luoghi dove si parla di professioni allora è arrivato questo emendamenti che sappiamo piovuti per una manina che non sono emendamenti voluti da una parte politica ma da un signore o due signori tre signori che l'hanno firmata senatori che sono invece stati richiesti dal ministero dell'industria questa è la verità e stiamo lavorando tutti insieme tutti insieme per fare in modo che questi emendamenti siano ritirati per la prossima settimana oggi per oggi i pareri non sono arrivati dalla commissione bilancio abbiamo speranza di più non posso dire che questi emendamenti così come sono entrati possano uscire senza essere rimessi alla votazione dell'Aula io concludo ringraziandovi per l'attenzione ma soprattutto perché vi voglio solo dire non dovete avere non dico timori ma anche un attimo dei pudori a rappresentare le esigenze e le necessità dell'avvocatura condivido tutto quello ha detto il presidente di Bari i presidenti stamattina ma bisogna che voi abbiate la forza di sostenere che l'avvocatura come tutte le professioni intellettuali devono essere rispettate in Parlamento perché sono 2.350.000 i liberi professionisti e devono avere il rispetto perché rappresentano il 16% del PIR danno lavoro a tanta gente e il rispetto si manifesta in un modo solo facendo delle leggi giuste ed equilibrate e questo voi tutti lo dovete pretendere in Parlamento grazie e a presto grazie per un breve intervento di saluti il segretario generale dell'associazione nazionale magistrati il consigliere Maurizio Carbone buonasera a tutti intervengo in rappresentanza dell'associazione nazionale magistrati nella mia qualità di segretario generale porto innanzitutto i saluti del presidente Sabelli anche a nome dell'intera giunta esecutiva centrale ringrazio tutti voi gli organizzatori per questo invito che mi permette oggi di essere qui con voi in questo congresso che vede riunita l'intera avvocatura l'importanza del congresso il tema scelto il tema molto impegnativo ambizioso l'avvocatura per una democrazia solidale il cittadino prima di tutto costituiscono occasione particolarmente gradita per l'associazione nazionale magistrata per partecipare con voi ad una serie ed approfondita riflessione sullo stato del funzionamento della giustizia e soprattutto per rinnovare in questa sede anche in questa sede la disponibilità della magistratura associata a fornire il proprio contributo per favorire ogni forma di collaborazione siamo convinti ed è una convinzione da tempo maturata che solo un impegno comune e leale tra noi magistrati e avvocati possa davvero consentire di avviare un percorso utile per la realizzazione di riforme che tutti da tempo sentiamo come necessarie per migliorare il servizio giustizia proprio nell'interesse di tutti i cittadini è innegabile ed è emerso in molti degli interventi di stamattina che in questi anni si sono registrate tensioni sui temi della giustizia nei rapporti tra magistratura avvocatura ed istituzione queste tensioni certamente non hanno favorito questo percorso ed anzi hanno alimentato un sempre maggiore senso di sfiducia dei cittadini verso l'intero sistema verso le nostre stesse professioni e cosa ancora più grave hanno svilito la stessa dignità del nostro lavoro quella dignità che è stata richiamata prima dell'intervento del professor Rodotà è stata svilita le nostre professionalità e credo che di questo dobbiamo essere e ne siamo e anche gli interventi di stamattina ma anche la passione con il quale sono stati commentati e seguiti dalla platea gli interventi dimostrano che oggi noi magistrati e avvocati dobbiamo sentire il dovere di restituire alla giustizia una dignità adeguata alla storia di civiltà giuridica del nostro paese questo non solo perché ce lo chiedono i cittadini ma perché ce lo chiede ancora prima la dignità e il rispetto che ancora oggi dobbiamo portare verso il nostro lavoro di giudici e di avvocati nel nostro lavoro di fare giustizia occorre quindi cominciare secondo noi a fare delle proposte comuni favorire su queste proposte la formazione di un ampio consenso devo dire il resoconto che ci è stato fatto prima anche sui lavori come avvengono spesso i lavori parlamentari ci confermano quando sia importante questa collaborazione le nostre divisioni hanno troppo spesso permesso ad altri di utilizzarle come alibi per fare riforme poco soddisfacenti lontano da reali esigenze e interessi di chi opera come noi quotidianamente nel settore giustizia o peggio ancora per non fare alcuna riforma dobbiamo quindi batterci per pretendere che la giustizia sia finalmente consigliata una risorsa e non più solo un costo dobbiamo farlo insieme anche se questo obiettivo può comportare qualche piccola rinuncia ma di tale importanza raggiungerlo che ne verrebbe comunque la pena i temi comuni sui quali lavorare sui quali partire e fare proposte insieme e sulle quali lavorare non mancano anche se occorre certamente intendersi sui metodi e i toni e su questo c'è ancora molto da fare e da lavorare oggi per fare un esempio è avvenuto anche in questa sala in molti tribunali italiani sono stati organizzati dall'Unione Camere Penali incontri per denunziare le condizioni di vita dei detenuti anche qui all'inizio del concresso abbiamo tenuto un minuto di silenzio su questo tema l'Associazione Nazionale Magistrati condivide questa preoccupazione e condivide l'attenzione per il tema carcerario nel prossimo 4 dicembre abbiamo organizzato a Roma un convegno proprio su questa tematica condividiamo con voi la necessità di interventi normativi volti a realizzare una revisione dell'attuale sistema sanzionatorio che stende ricorso a sanzioni in misure cautelare di natura patrimoniale interdittiva e che valorizzi misure alternative Commissione Giustizia la NM e l'Unione Camere Penali hanno espresso pareri conformi su questi aspetti in linea con i principi costituzionali oggi infatti l'Associazione Nazionale Magistrati nei Tribunali è stata a fianco agli Avvocati nel minuto di silenzio per ricordare questi aspetti è anche vero che queste tematiche vanno affrontate insieme ma con un'ampia riflessione senza pregiudizie ed evitando spunti polemici come sono stati fatti o spesso vengono fatti circa presunti abusi da parte della magistratura sullo strumento della custodia cautelare occorre invece collaborare per una giustizia efficiente eliminare la irragionevole durata del processo sia civile che penale fondamentale è stata ed è e deve sarà la collaborazione di tutti per rendere concreto effettivo il processo civile telematico con la digitalizzazione degli atti la creazione dell'ufficio del giudice l'adeguamento dei ruoli del personale amministrativo quante volte l'abbiamo chiesto anche insieme il ripensamento del sistema dell'impugnazione ma anche sui temi più delicati quali la ragionevole durata del processo ci deve vedere insieme la morte anticipata del processo dobbiamo esserne tutti convinti è una sconfitta per tutti è una mancata giustizia come lo è però una giustizia senza tempo che rappresenta per i cittadini una pena già di per sé salutiamo devo dire anche qui con soddisfazione che il ministro della giustizia anche su richiesta dell'associazione nazionale magistratica ha istituito un tavolo tecnico al quale parteciperanno rappresentanti dell'avvocatura della magistratura dell'associazione nazionale magistrale della politica proprio sul tema della prescrizione anche su questo credo che dobbiamo trovare anche se ci sono cose che ci dividono delle soluzioni insieme concludo so sono consapevole che il percorso non è facile e complesso tante cose ci dividono ancora ma se recuperiamo lo spirito che ispira questo stesso congresso per una giustizia che davvero vuole mettere prima di tutto il cittadino allora possiamo davvero sperare di fare insieme uno sforzo decisivo per superare i tanti troppi pregiudizi che hanno reso difficili e a volte impossibili ogni dialogo questo è il nostro invito l'auspicio è che venga presto raccolto nei fatti da noi magistrati e da voi avvocati vi ringrazio buon lavoro scusate vi do comunicazione dei componenti delle commissioni congressuali congressuali il consiglio di presidenza che io coordino si è riunito e ha indicato questi componenti commissione verifica poteri presidente dei Giorgi Ceriotti dell'OVA Taormina della Cassa Fiore di Bari Giorgino già vicepresidente OVA commissione statuto Presidente Marino OVA perfetti vicepresidente Minervini consigliere Cassa Ancona Bari Baruffia NF Greco Aiga Camere Civili Menoni Commissione Emozioni Detilla Bagnoli Pasqualin Virgintino Malinconico Giuggioli Tortorano Rosa Perifano Greco Menoni Marullo Marozzi Questa è la comunicazione La commissione verifica poteri già sta lavorando Bene Allora chiamerei l'avvocato Patrizio Tumietto Presidente di Uncat per la sua relazione Grazie Non spaventatevi la mia non era una relazione un semplice saluto anche perché fare una relazione sul fisco in presenza del professor Uckman mi mette molto in imbarazzo in quanto mi sento sempre un allievo di fronte al maestro e quindi non oserei invadere il campo Comunque come Unione Avvocati Tributaristi porto il saluto della mia associazione Come voi sapete non siamo molti come numero ma ci stiamo muovendo molto perché i problemi che affrontiamo sono di interesse comune di tutti non solo dagli avvocati come professionisti ma soprattutto come cittadini e contribuenti Noi in questo periodo abbiamo assistito a delle oserei definire le invasioni di campo molto forti da parte della magistratura che con alcune sentenze ha creato delle categorie di diritto o quantomeno le ha ampliate in una maniera tale da mettere veramente in difficoltà i contribuenti Perché questo? Perché quando la Cassazione arriva a giudicare normalmente sono passati dai 10 ai 15 anni dal fatto e quindi è difficile pensare che 10 o 15 anni prima il contribuente potesse immaginare uno sviluppo giurisprudenziale del genere Ora è vero che la certezza di diritto è diventato un qualche cosa di più teorico che pratico però quantomeno in una struttura legislativa dove si parla di leggi scritte l'inserire delle interpretazioni così vaste e così forte mette veramente in difficoltà soprattutto in un campo come quello fiscale che tocca pesantemente gli interessi dell'individuo Io vorrei ricordare a proposito di questo una frase di John Rawls in quale diceva la giustizia è la prima virtù delle istituzioni sociali così come la verità lo è dei sistemi di pensiero una teoria per quanto semplice ed elegante deve essere abbandonata o modificata se non è vera allo stesso modo leggi e istituzioni non importa quanto efficienti e ben congegnate devono essere riformate o abolite se sono ingiuste ogni persona possiede un'inviolabilità fondata sulla giustizia su cui neppure il benessere della società nel suo complesso può prevalere per questa ragione la giustizia nega che la perdita della libertà per qualcuno possa essere giustificata da maggiori benefici goduti da altri un altro problema che riguarda sempre il nostro campo di attività il fisco è diventato invadente in una maniera incredibile perché è sempre la disperata ricerca di materia imponibile però questo è solo uno dei due aspetti del problema che stiamo affrontando come paese l'aspetto principale anche se vogliamo dire può sembrare banale è che se ci sono dei momenti di crisi la prima cosa che si deve fare è tagliare la spesa non cercare di incrementare le entrate a tutti i costi vessando soprattutto le categorie di contribuenti che sono già note al fisco e che subiscono una continua e totale invasione della loro sfera personale quindi io mi auguro che il futuro ci porti qualche speranza e la speranza si chiama taglio deciso della spesa pubblica improduttiva vale a dire basta sprechi con questo augurio porgo il saluto della mia associazione ai migliori auguri al congresso grazie l'avvocato Esther Perifano segretario generale di ANF buonasera a tutti io non so quanto tempo ho presidente perché siccome ho visto che c'è libertà dieci minuti mi accontento di dieci minuti ci provo allora oggi cari colleghi inizia il trentunesimo congresso nazionale forense a due anni esatti dall'esperienza di Genova a pochi mesi da quell'incontro di Milano che un po' impropriamente viene definito congresso straordinario a molti non piacqua il congresso di Genova una pagina nera dicono da dimenticare addirittura alcuni poi dopo nottetempo andarono a scusarsi con il ministro Alfano perché noi avevamo sato in quella sede esprimere la nostra opinione eppure fu un congresso quello di Genova che nella sua vivacità rappresentò una netta cesura con i tanti soporiferi congressi che lo avevano preceduto a Genova i delegati congressuali furono bravi molto bravi sconfessarono scelte sbagliate e non condivise videro lontano deliberarono a Genova all'unanimità una ferma opposizione alla conciliazione obbligatoria e poi la corte costituzionale ci ha dato ragione bocciarono a larghissima maggioranza un illegittimo regolamento sulle specializzazioni forensi che non convinceva e che poi fu definitivamente affossato dal Tar un congresso consapevole ed informato quello di Genova con competenza seppe indicare una linea che nel tempo si è rivelata quella giusta altro che congresso da dimenticare fu un momento di vero e costruttivo confronto tra opinioni diverse prevalsero come giusto che sia e come democratico le opinioni maggioritarie e se qualcuno glielo avesse saputo suggerire quel congresso di Genova si sarebbe pure accorto che di lì a poco in questo paese sarebbe iniziato un percorso riformatore un percorso cinico inefficace inefficiente e disordinato da luglio 2011 noi abbiamo subito una produzione normativa ipertrofica assolutamente disorganica incontrollata ed incontrollabile al punto che oggi ci riesce ancora difficile anche solo valutare appieno le conseguenze abbiamo assistito a decretazione d'urgenza raffica modificata da maxi emendamenti e convertita solo grazie a voti di fiducia strappate alle camere sotto il ricatto dello spread in aumento abbiamo visto un Parlamento ma mi scuserà l'onorevole Siliquini solo dal 2011 un avanti sostanzialmente commissariato dal governo mentre dal 2008 al 2011 tutta questa grande attività da parte di un Parlamento che aveva una maggioranza bulgara noi non l'abbiamo vista abbiamo visto invece dal 2011 un Parlamento commissariato dal governo che è stato costretto a rinunciare molte volte alla propria funzione di legislatore abbiamo dovuto fare i conti tutti noi avvocati compreso l'onorevole Siliquini con interventi sulla giustizia civile con interventi sulla geografia giudiziaria con nuove forme di organizzazione del lavoro con le nuove norme in materia di ordinamento forense con una richiesta pressante di rivedere velocemente il nostro sistema previdenziale tutto proprio tutto è stato investito dallo tsunami come ha già detto qualcuno stamattina e in questo panorama emergenziale è risultata mai come oggi molto evidente la irrilevanza socio-economica dell'avvocatura in quanto tale visibilmente ignorata da chi decide di fatto emarginata anche all'interno del comparto delle libere professioni travolte le nostre rappresentanze nazionali travolte da questo tsunami è incapace di fronteggiare efficacemente l'azione governativa prigioniere senza riuscire ad emergerne del loro ruolo di strenu i difensori di uno status quo che non esiste più da tempo hanno molte responsabilità le nostre rappresentanze nazionali innanzitutto quelle di non aver saputo o voluto leggere i numerosi segnali di profondo cambiamento che pure da tempo da molti anni si manifestano intorno a noi la responsabilità di non aver saputo o voluto traghettare l'avvocatura verso un'idea di professione più moderna più agile più contestualizzata nell'epoca in cui viviamo è stato scelto l'arroccamento i nostri vertici ci hanno riproposto schemi anche compartimentali comportamentali ormai un po' sorpassati obsoleti del tutto inefficaci una sola parola inutili a Milano quella riunione che abbiamo fatto a marzo del 2012 si è riusciti a consegnare al governo e al Parlamento una serie impressionante di no si è chiesta la immediata abrogazione di leggi appena approvate ma non siamo riusciti contestualmente ad avanzare delle vere proposte alternative di ammodernamento del nostro antiquato sistema il più antiquato d'Europa e mentre si decideva la resistenza ad oltranza nel fortino di Fortalamo rifiutando sdegnosamente qualunque interlocuzione ci sono caduti tra capo e noce di collo nell'ordine l'approvazione ad agosto del DPR professioni nuove regole per tutte le professioni ordinistiche attualmente vigente il decreto ministeriale dei parametri nuove modalità per la liquidazione dei compensi i decreti legislativi 155 e 156 revisione della geografia giudiziaria ovvero tradotto in termini comprensibili i segni tangibili di quanto poco e niente ci abbiano considerato gli indipendentisti texani narra la leggenda nel fortino di Fortalamo morirono tutti gli avvocati italiani fortunatamente sono ancora tutti vivi siamo vivi siamo vivi fortunatamente e stiamo celebrando il nostro trentunesimo congresso nazionale forense e dobbiamo essere pronti a reagire siamo è vero un po' scusami guido tenuti nostaggio da chi affida le sue speranze di riscatto all'approvazione di una legge professionale in itinere che sostanzialmente lo sai la nostra opinione qual è non risolve nessuno dei nostri problemi semmai ne aggiunge altri ha però occorre dirlo un considerevolissimo pregio per chi la sostiene quello di rafforzare un centralismo non democratico degli organismi nazionali sono è vero in mezzo al guado gli avvocati italiani tra libertà in parte compromesse e liberalizzazioni tutte da dimostrare e tutte ancora da realizzare ma io ti dico questo oggi è già domani e questo congresso saprà autonomamente ragionare su quello che è accaduto e saprà ragionare su quello che non deve accadere domani io l'ho già detto lo ripeto a costo di annoiarvi banalmente l'avvocatura così come siamo stati abituati a pensarla negli anni oggi non esiste più perché la professione forense è cambiata e da tempo da tempo l'avvocato ha perso la sua connotazione di notabile socialmente accreditato che gestiva il processo imponendo la propria personalità non esiste più perché il progressivo peggioramento dell'apparato giudiziario e l'allungamento dei tempi pesano fortemente sulla possibilità per gli avvocati di garantire il risultato ovvero la sentenza in tempi ragionevoli perché altre professioni più giovani e meno ingessate della nostra ci hanno progressivamente sottratto quote rilevanti di attività soprattutto nell'ambito della consulenza stragiudiziale i commercialisti perché sempre più negli ultimi decenni è stato consentito grazie alle gestioni clientelare dell'accesso che i nostri albi divenissero una specie di ricovero per numerosissimi nuovi entrati che non riuscendo a realizzarsi altrove magistratura notariato funzionario pubblico imprese e banche finivano per rifugiarsi nell'alveo amico dell'albo degli avvocati questa mutazione che ormai è ontologica si è scaricata pressoché integralmente sugli avvocati marginali su quelli che con difficoltà riescono ad acquisire clientela o a mantenere aperto uno studio gli stessi che qualcuno brutalmente vorrebbe vorrebbe fuori dagli albi dalla sera alla mattina utilizzando una legge di riforma che nonostante gli sforzi non riesce a nascondere il suo vero obiettivo l'articolo 21 docet vi invito a leggerlo approfonditamente e lo capirete è falso questo è falso e allora occorre dirsi la verità grazie e allora colleghi noi dobbiamo dirci la verità e dobbiamo chiamare le cose con il loro nome il giudiziario non basta più per tutti e anziché prepararci per tempo ai cambiamenti si è preferito rincorrere i mulini a vento di improbabili restaurazioni con la conseguenza facilmente prevedibile che tra qualche anno ma forse anche prima l'avvocatura sarà in emergenza sociale una professione marginalizzata sia rispetto alla società che rispetto alle altre professioni e allora occorre invertire la tendenza e occorre farlo subito perché per cambiare rotta serve tempo occorre recuperare autorità e autorevolezza presso la politica presentandoci al confronto con un atteggiamento collaborativo e propositivo mi spiace Guido io non sono d'accordo con quello che hai detto stamattina a proposito del decreto ministeriale dei parametri noi l'organismo unitario e tutte le altre associazioni tutte compreso la cassa e compreso tutte le altre tranne il CNF ci siamo seduti con un grande spirito collaborativo a quel tavolo e il provvedimento e le modifiche che il ministro ci ha garantito sui parametri secondo noi sono modifiche importanti forse non sono esaustive però non è giusto svilire quel risultato solo perché il CNF ha scelto di non volersi sedere e di non voler parlare con il ministro della giustizia noi abbiamo fotocopiato ed è presso il nostro stand la comunicazione ufficiale che il ministero della giustizia ci ha mandato penso che ognuno di voi se vuole lo può ritirare può leggere e può valutare in perfetta autonomia in piena autonomia se quel risultato è un risultato da buttare nel cestino della carta straccia o se è qualcosa che inizia a farci sistemare un po' meglio quello che c'è ritorno ancora indietro noi occorre occorrono tante cose occorre anche convincere la società civile che gli avvocati sono professionisti moderni in grado di competere ai più alti livelli che non hanno bisogno di falsi steccati eretti alla difesa del nulla perché noi non abbiamo nulla adesso che gli avvocati stanno e sanno stare nella giurisdizione più e meglio dei giudici che gli avvocati possono in molti campi sostituire lo stato esausto che gli avvocati hanno diritto ad un riequilibrio delle competenze nel rapporto con le altre professioni che gli avvocati hanno anche però il diritto di essere rispettati per la funzione insopprimibile ed incomprimibile che svolgono in quanto garanti e custodi di un diritto costituzionalmente garantito che gli avvocati sono da sempre e per sempre l'ultimo baluardo a tutela dei diritti dei cittadini ma per ottenere questo devono essere gli avvocati stessi dobbiamo essere noi a trovare dentro di noi la forza e le motivazioni per reagire non pretendiamo che le cose cambino se continuiamo a farle nello stesso modo Albert Einstein a qualcuno non piace ma mettiamola così agli avvocati serve un deciso cambio di passo un deciso cambio di mentalità un cambio di organizzazione e un cambio di cultura dobbiamo imparare velocemente a misurarci senza protezioni con la realtà consapevoli che rispetto ad altri la nostra strada è certamente in salita perché per un avvocato stare nel mercato non è cosa che dipende interamente da lui dobbiamo riconoscere tutti gli errori del passato innanzitutto quello di aver sottovalutato tutti i segnali che pure numerosi provenivano dall'economia e dalla società ci sono l'ho già detto responsabilità molto precise ma adesso basta bugie basta fingere che tutto prima o poi si aggiusterà e che ritorneranno i tempi d'oro di una volta agli avvocati a noi bisogna dire la verità che il sistema che ci ha cresciuto non tornerà più che tutto è già cambiato è già diverso dobbiamo imparare ad adattarci al nuovo e se non riusciamo a farlo o se non lo sappiamo fare siamo destinati ad essere travolti quando questa operazione verità sarà portata a termine allora e solo allora potremo pretendere che dall'esterno venga l'aiuto giusto per ripartire solo allora potremo tornare ad occupare il posto che ci spetta per la nostra storia e ritornare ad essere autorevole e rispettata classe dirigente di questo nostro paese grazie grazie a Esther e il professor avvocato Filippo Lubrano per la società italiana di avvocati amministrativi chi mi conosce sa che quando intervengo in un discorso non cerco un facile applauso o un'approvazione ma preferisco dire cose concrete cose vere cose che qualche volta possono non piacere ma questa è la mia linea e scusatemi siccome sono 50 anni che svolgo questa attività e il mio cursus nell'ambito dell'ordinamento forense l'ho fatto sarei non onesto se non tenessi questa posizione il mio intervento riguarda soltanto due considerazioni ma due considerazioni che ritengo importanti una prima è di carattere associativo una seconda riguarda in particolare il mio settore di attività che è il diritto amministrativo e la società italiana degli avvocati amministrativisti dal punto di vista associativo mi debbo adeguare a quello che ha detto Ester Perifano e credo che a nome vostro sia necessario fare un apprezzamento un ringraziamento alle associazioni forensi che in questi ultimi quattro mesi hanno tenuto un comportamento di attento lavoro presso il ministero anche quando sembrava che non ci considerassero ma alla fine abbiamo spuntato qualche cosa e spuntare qualche cosa è sicuramente qualche cosa di utile su due punti sul decreto dei parametri nel quale ci sono state fatte delle comunicazioni precise e che non sono di ultimo conto e comunque sono qualche cosa e in secondo luogo anche sulla materia dell'accesso e qui vorrei precisare all'onorevole Sidi Quini che forse questo non lo sa noi abbiamo avuto delle indicazioni precise anche per quanto riguarda l'accesso sulla indicazione sulla introduzione nel nuovo sistema di un numero programmato che il numero programmato non si può fare nell'università perché l'università non è la giurisprudenza una materia specialistica ma il numero programmato si può fare per quanto riguarda le cosiddette professioni legali e quindi si può fare all'interno del corso di laurea per chi voglia fare la professione di avvocato o di magistrato o si può fare subito dopo la laurea e questa è la prima indicazione che ci è stata data quindi due risultati importanti e confidiamo come associazioni di continuare questa attività per realizzare poi in concreto ma nel momento in cui abbiamo ricevuto un'email precisa e analitica che ci dice queste indicazioni io credo che sarebbe difficile per il ministro Severino tirarsi indietro la seconda osservazione riguarda quella che è la mia competenza specifica del diritto amministrativo è innanzitutto una rettifica a quello che ha detto Esther Perifano a proposito del provvedimento delle specializzazioni io e la società italiana avvocati amministrativisti siamo stati quelli che hanno più apprezzato l'intervento del consiglio nazionale forense quando ha fatto quel provvedimento un provvedimento che era assolutamente necessario assolutamente necessario e questo invito tutti voi ad andarvi a consultare i siti internet di tanti colleghi che svolgono l'attività e forse realizzerete quello che ho realizzato io a suo tempo quando è venuto fuori quel decreto quando ho letto di tanti avvocati che si qualificavano amministrativista e io francamente non l'avevo mai conosciuti non l'avevo mai apprezzati non l'avevo mai visti in un tribunale amministrativo o a maggior ragione nel consiglio di stato quella era un'iniziativa lodevole io che sono contrario al disegno di legge che è in corso di approvazione dico che in quel disegno di legge per fortuna c'è qualche cosa sulle specializzazioni e quindi questo problema lo potrei risolvere ma se il disegno di legge non passerà ed è questa la rettifica che devo fare a estera perifano forse la possibilità di tornare al provvedimento del consiglio nazionale forense si realizzerà ugualmente perché non è vero che quel provvedimento è stato definitivamente affossato dal TAR è stato dichiarato illegittimo dal TAR ma come società italiana avvocati amministrativisti abbiamo proposto i ricorsi e i ricorsi sono pendenti al consiglio di stato se verrà la legge professionale si risolverà in sede di attuazione della legge se non verrà solliciteremo quei ricorsi per la trattazione e per la definizione la seconda considerazione di carattere amministrativistico riguarda questi documenti che avete visto che mi sono portato lo sapete che cosa sono questi sono i ricorsi che sono stati fatti dal consiglio nazionale forense dagli ordini e da una quantità di avvocati avverso il dpr delle professioni e avverso il decrito sui parametri e a parte la considerazione che come diceva Stefano Rodotà c'erano quelle brevi decisioni del conseglie costituzionale e l'ho invocato per le decisioni dei magistrati beh il sistema del processo amministrativo stabilisce il principio della sinteticità ditemi voi se questa è sinteticità ma ci sono anche altre due considerazioni che faccio tenete presente le faccio non perché non sono stato ufficiato io ma sono stati ufficiati altri perché Guido Alpa lo sa io questo ricorso questi ricorsi non l'avrei fatti e quindi posso parlare liberamente ci sono due considerazioni di carattere sostanziale una considerazione attiene all'impugnazione del decreto professioni che potrebbe risultare inutile forse loro se lo augureranno io francamente no se passa il disegno di legge sulla professione legale perché è evidente che se si sovrappone una disciplina legislativa la disciplina amministrativa almeno per quanto riguarda le nostre professioni cane ma l'altra considerazione è una considerazione di carattere sostanziale molto importante io non lo avrei fatti perché in 50 anni che ho seguito l'attività del processo amministrativo da appena nato come praticante ad adesso ho imparato una cosa ho imparato e quelli di voi che c'erano alle riunioni che abbiamo fatto al consiglio nazionale forense già lo sanno quando si fa un ricorso contro un potere forte e questo ministro della giustizia soprattutto nel momento attuale è un potere forte il ricorso al giudice amministrativo che è un giudice speciale e tutti quanti lo sapete speciale quando dico speciale lo dico tra virgolette perché in realtà è il giudice ordinario della funzione amministrativa un ricorso al giudice amministrativo contro un potere forte si vince se si hanno degli argomenti di carattere estremamente specifico e puntuale o degli argomenti di carattere formale o altro non si vince sull'eccesso di potere e in questa materia purtroppo tutta l'impostazione è basata su questo e non c'è altro e quindi io questo discorso non l'ho rifatto anche perché tenete presente che nella prospettiva dell'amministrazione e del giudice amministrativo annullare questi atti significa rimanere senza disciplina delle professioni e pensate se nel momento attuale dopo aver realizzato questo risultato dopo un anno di sovrapposizione di leggi un organo come il giudice amministrativo che sapete quanto è legato all'amministrazione può arrivare a questo risultato la mia ultima considerazione è una considerazione un po' cattiva un po' cattiva nei confronti dei redattori di questi ricorsi non è soltanto il discorso della mancata sinteticità in un atto di 120 pagine ma il rilievo andatevi a vedere sono sul sito del Consiglio Nazionale Forense e tutti quanti lo potete vedere che questi ricorsi vanno avanti per 60-70 pagine a fianco di ciascuna delle quali c'è un mandato a margine di un presidente di un avvocato o di un altro poi c'è la relata di notifica poi ci sono una cinquantina di pagine che contengono soltanto un mandato che viene definito come mandato in calcio anche se apposto a margine io sono stato quando ero presidente dell'ordine una cosa tenevo molto era al rispetto delle regole da parte degli avvocati quando sono stato nella mia attività di avvocato cerco di rispettare queste regole e tenete presente che noi avvocati siamo quelli che andiamo a dire alla classe politica che ci debbano essere date le funzioni notarili per certe attività io mi domando se qualcuno di voi si è mai rivolto a un notaio e gli ha detto ti mando anche se fosse stato amico di infanzia ti mando un foglio firmato poi fa tu qui è stato fatto questo grazie dunque si è iscritto a parlare il presidente dell'unione delle camere civili e l'avvocato renzo menoni buongiorno a tutti vi porto il saluto dell'unione delle camere civili sono un po' imbarazzato nell'intervenire perché non essendo stato parlamentare non vi posso narrare tutte le cose belle che ho fatto in questi anni per l'avvocatura e quindi non vi posso enumerare tutti i miei interventi e tutte le cose che ho fatto vi dovrete accontentare quindi di alcune modestissime considerazioni di un avvocato e devo dire su questo credo conveniamo tutti tempi brutti per l'avvocatura anzi bruttissimi è diventato questo perfino un luogo comune che ci ripetiamo un po' noiosamente forse in ogni congresso convegno simili ma persino quando ci troviamo che stiamo aspettando un'udienza nei corridoi dei nostri tribunali d'altra parte è anche vero che mediazioni parametri legge professionale che non si sa se verrà approvata filtri in appello in cassazione condizioni economiche nettamente peggiorate in questi ultimi anni per tutta l'avvocatura questi sono dati di fatto ed infatti dai dati della cassa forense ma i dati sono sempre leggermente in ritardo quindi la situazione è peggio di quella che ci viene detta oltre il 25% degli iscritti ha un reddito lordo inferiore a 10.000 euro ma quel che è peggio oltre 60.000 avvocati non sono iscritti alla cassa perché non raggiungono questo reddito minimo il che significa che circa il 50% degli iscritti agli albi è in una condizione economica di gravissima sofferenza e non per niente si parla ormai di proletarizzazione dell'avvocatura io credo che sia da qui che dobbiamo partire con le nostre riflessioni che questa sia l'attuale situazione dell'avvocatura altrimenti facciamo teorie perché questo perché sulla generale crisi economica che investe tutto il mondo produttivo e o quasi e tutte le professioni o quasi che però ha carattere congiunturale e che quindi come tutte le crisi di carattere congiunturale prima o poi si risolverà vi è una crisi strutturale che invece che riguarda specificamente l'avvocatura questa crisi strutturale è data dal fatto che siamo 240.000 che siamo passati in vent'anni da 50.000 a 240.000 cinque volte tanto questa è una crisi strutturale che certamente non potremo risolvere in tempi brevi ma alla crisi strutturale si è aggiunto un'ulteriore crisi che riguarda specificamente l'avvocatura e cioè una crisi funzionale cosa intendo per crisi funzionale per crisi funzionali intendo dire che la funzione dell'avvocato è come tutti sappiamo quella di tutelare i diritti dei propri assistiti ma se la giustizia non funziona o funziona male entra in crisi la stessa funzione dell'avvocato l'avvocato nel momento in cui la giustizia non funziona diventa sostanzialmente inutile quindi una situazione gravissima bisogna però uscire dal circolo vizioso delle querule lamentele che è assolutamente inutile e direi ormai quasi stucchevole e da allora bisogna riconoscere che se siamo in questa situazione non è solo di una politica cattiva che indubbiamente c'è ma è anche colpa dell'avvocatura ed in primis della sua classe dirigente di cui noi io a piccolo livello facciamo parte io credo che non sia giusto e non sia luogo questo di fare dei processi e credo anche che non ci porterebbe da nessuna parte il tentativo di processi più o meno sommari e di scoprire chi è stato il presunto vero o presunto assassino l'importante è essere consci che la classe dirigente dell'avvocatura ripeto quindi noi non gli altri noi abbiamo delle colpe e dobbiamo trovare dei rimedi solo se siamo in grado di fare queste riflessioni che sono riflessioni anche di umiltà e che non si devono tradurre in lezioncine date a un'assemblea congressuale con toni più o meno demagogici solo se siamo in grado di fare queste riflessioni a serie ponderate allora forse facciamo un passetto in avanti e allora per sintetizzare cos'è necessario prima di tutto se abbiamo detto che la crisi strutturale dell'avvocatura è data dal numero degli avvocati una immediata riforma dell'accesso forse l'avvocatura ha prestato troppa poca attenzione a questo ha inseguito altre chimere ha inseguito forse problemi di rappresentanza che sono importanti importantissimi che dovremo affrontare ma che vengono un attimo dopo il problema dell'accesso è davanti a tutti e qua abbiamo forse un'occasione storica le associazioni forensi insieme a OUA e Cassa come sapete hanno incontrato l'altro giorno il ministro ci sono state sottoposte tre soluzioni dobbiamo in qualche modo scegliere quella che preferiamo e dobbiamo perseguirla con determinazione se si risolve il problema dell'accesso forse si è in grado di ricostituire un'avvocatura migliore e soprattutto dare un futuro all'avvocatura e ai giovani non è un problema tanto mio dell'avvocato Danovi che vedo in seconda fila o di Alpa che siamo in qualche modo un pochino verso la fine della nostra carriera professionale naturalmente lunga vita ma dico insomma ormai in qualche modo quello che dovevamo fare nel bene e nel male l'abbiamo fatto quanto delle giovani generazioni ma nel frattempo però questo non deve essere un alibi e cioè perché continuiamo a non far funzionare correttamente le commissioni d'avvocato perché non avviene questa selezione meritocratica perché se è vero che siamo in maggioranza nelle commissioni che il presidente delle commissioni è un avvocato abbiamo questi risultati che non ci piacciono anche qui credo che abbiamo grosse responsabilità e senza volere fare il processo a nessuno che non ci porterebbe da nessuna parte dobbiamo però da oggi o da domani cercare di mettere rimedio non solo limitarci a richiedere riforme legislative e poi sono civilista permetterete una seria ed organica riforma del processo ma anche qui nel frattempo perché non sembri un alibi perché non pretendiamo ic et nunc come dicevano i nostri avi il funzionamento della giustizia civile perché mi chiedo e in questo periodo mi chiedo sempre più pressantemente se la giustizia civile funziona correttamente nei tempi di Strasburgo a Torino Tribunale e Corte d'Appello di Torino Tribunale e Torino in un anno vengono decisi più dei 50% dei giudizi di cognizione entro i tre anni canonici del periodo della Corte Europea il 94% questo non avviene solo a Torino avviene a Genova questo non avviene solo a Genova in parte avviene a Milano questo non avviene solo a Milano avviene anche a Prato allora se avviene presso questi uffici giudiziari perché non deve avvenire a Parma che è la mia città perché non deve avvenire a Bologna dove ci sono scandalosi rinvia la Corte d'Appello al 2019 perché non deve avvenire a Bari o a Palermo o a Canicattì ecco questo dobbiamo pretendere noi avvocati dobbiamo pretendere che già oggi con le attuali carenze che tutti sappiamo dei magistrati con le attuali carenze del personale ausiliario e delle risorse economiche la giustizia civile funzioni dobbiamo pretendere e qui dovrebbe venire a mio parere dal Congresso una forte risposta che tutti i consigli dell'ordine dessero parere incondizionatamente sfavorevole alla riconferma dei responsabili degli uffici giudiziari come per esempio il mio tribunale quello di Parma o la mia Corte d'Appello Bologna tanto per farmi benvolere dai magistrati dirigenti venga dato parere negativo alla loro conferma alla prima scadenza e che non siano rinnovati per i prossimi quattro anni i dirigenti degli uffici hanno questa responsabilità e ripeto se questo è possibile in certe città deve essere possibile dappertutto se io credo superando le nostre divisioni e i nostri miopi e qualche volta permettetevi anche miserevoli personalismi non riusciremo a recuperare una volontà unitaria dell'Avvocatura che non significa avere il miraggio che tutta l'Avvocatura la pensi nello stesso modo l'Avvocatura è un'entità composita è un'entità complessa è anche una ricchezza questo ma però in questa complessità si deve trovare su punti fondamentali la convergenza l'unità di intenti che ci impongono queste emergenze e allora possiamo riuscire a dare un dignitoso presente e un ragionevole futuro all'Avvocatura d'altra parte non sono delle novità assolute tutti noi ricordiamo che durante la rivoluzione francese è stato soppressi gli albi degli Avvocati Napoleone ha tentato di nuovo di sopprimerli però poi l'Avvocatura è risorta allora se abbiamo questa volontà se abbiamo questa capacità se riusciamo appunto a recuperare nella nostra molteplicità un'unità di intenti forse l'Avvocatura ha ancora un futuro grazie grazie Avvocato Menoni la collega Luisella Fagni per l'AIAF intanto buonasera dieci anni fa mi pare proprio dieci anni fa a Verona l'AIAF che è l'associazione italiana degli Avvocati per la Famiglia per i Minori veniva riconosciuta come associazione maggiormente rappresentativa del settore e entrava nel numero delle associazioni che sono riconosciute dalle istituzioni forensi dall'UWA dal congresso riconosciute dal congresso il giorno io riuscì ad avere da parte non so più quante centinaia di firme dai congressisti per poter ottenere l'entrata in vigore della legge 149 del 2001 che aveva finalmente giurisdizionalizzato il processo civile minorile in materia soprattutto di adozione potestà familiare perché vi dico questo il titolo di questo congresso dice la vocatura per una democrazia solidale il cittadino prima di tutto e allora bene quale settore voi ritenete che abbia bisogno di maggiore solidarietà se non quello della famiglia e quello della funzione dei genitori che nel processo precedente venivano sostanzialmente estromessi non potevano essere tutelati io lo so che questo è un tema che qualcuno ritiene sia un tema di nicchia ma vorrei ricordare invece che se c'è un settore dell'avvocatura che conosce i problemi dei cittadini è quello di chi tratta la crisi della famiglia e a questo proposito per esempio voi saprete che mi pare l'ottanta per cento se non anche di più delle ammissioni al patrocinio a spese dello Stato riguardano proprio procedure di natura familiare ed allora per ricordare anch'io questo percorso che abbiamo fatto insieme come associazioni specialistiche e come Oua e come Cassa Forense era c'era disagio perché non c'erano i rappresentanti del CNF e lo dico senza nessun spirito polemico ma proprio perché era un posto vuoto che doveva essere riempito come dice un vecchio proverbio chi è assente ha sempre torto chi è presente può cercare di fare valere le sue ragioni tra le richieste che sono state fatte al ministro dall'avvocatura tutta ovviamente da noi in particolare è stata quella di sopprimere questa scandalosa riduzione delle competenze da liquidare ai professionisti che si occupano del patrocino a spese dello Stato tanto è vero che in queste proposte che ci sono state consegnate anzi inviate ad ognuno di noi dal ministero ieri ieri sera c'è la soppressione della riduzione del 50% del compenso nella liquidazione delle prestazioni svolte a favore di soggetti in patrocino a spese dello Stato e del compenso per l'assistenza d'ufficio ai minori ecco questi sono temi su cui veramente si misura il principio della solidarietà è il principio della tutela di quei diritti fondamentali di cui tanto a lungo qui ci ha parlato il professor Rodotà e c'è un altro argomento che voglio trattare qui e su cui chiederei che questo congresso si pronunciasse in maniera chiara non per protestare ma per sostenere le buone ragioni che abbiamo il ministro di cui ho avuto modo di apprezzare la sincerità e la franchezza non ha fatto nessuna promessa che fosse in contrasto con il suo reale potere di contrattazione e il tema che abbiamo affrontato e di cui voglio parlare è quello di cui qualcuno qui vi ha accennato del tentativo attraverso l'emendamento a cui forse faceva accenno anche la senatrice Siliquini di reintrodurre la mediazione obbligatoria allora vi dirò dopo le ragioni del ministro io voglio che noi avvocati sempre nell'interesse di questo cittadino a cui tutti quanti ci rivolgiamo e che diciamo di volere proteggere ci opponiamo fermamente a questa reintroduzione della media conciliazione obbligatoria chi si occupa di mediazione e chi si occupa di relazioni tra le persone è tra coloro che prima di tutti ha affrontato il tema di che cosa sia la mediazione che non è la negoziazione e non è la conciliazione e che cioè significa riuscire a risvegliare la capacità delle parti di essere capaci loro di risolvere i propri problemi sa bene che è strutturalmente come dire contraria alla mediazione e l'obbligatorietà la mediazione perché possa avere un suo risultato a necessità della adesione profonda da parte di chi la deve affrontare non può che essere volontaria e i mediatori professionali grazie a tutti